allora buongiorno buongiorno a tutte oggi è la festa della mamma e auguri a tutte le mamme alle nonne tutte quante perché siamo tutte mamme allora ragazze io stamattina di domenica sono stata a fare la spesa e adesso vi mostro la mia spesa domenicale per la domenica ecco la nostra spesa ancora nelle buste ed ora vi faccio vedere allora questo è il nostro mega spesone che abbiamo fatto stamattina allora iniziamo subito abbiamo preso fette integrali della mulino bianco poi asdomar tonno all'olio d'oliva bastoncini di merluzzo minestrone della tradizione della findus una vaschetta di fragole una confezione di petto di pollo arrostito cotto al forno poi abbiamo preso amadori il kebab di tacchino e la tagliata di petto di pollo poi ho preso una bottiglia di olio extravergine campo oro poi ho preso le alette di pollo due confezioni poi ho preso due confezioni di macinato poi abbiamo preso un fish bugger di merluzzo d'alaska voglio farlo provare a pietro perché non mangia tanto pesce quindi vediamo in questo modo se lo mangia e poi quattro cotolette di merluzzo poi c'era in offerta il finish per la lavastoviglie ho preso un barattolo di piselli i lupini poi ho preso quattro barattoli di fagioli cannellini olive nere non sono di gaeta però sono olive nere extra poi una confezione di granetti integrali poi abbiamo preso un pan degli angeli queste la bustina escono tre bustine di lievito poi come dolciumi solo questo pacco tipo i bondi poi abbiamo preso i fitness granola e miele questi sono i miei preferiti poi una sacchetta di patate selenella novella poi il lion per pietro e cereali poi vado dall'altra parte poi ho preso le confezioni di petto di pollo la salsiccia e poi abbiamo preso le costine di maiale sarebbe quello del capo collo di maiale poi i capperi sotto sale la lattuga poi c'era in offerta asce sgrassatore igienizzante l'ho preso perché la bottiglia più la ricarica erano costava 2 euro e 69 quindi ne ho approfittato e per la prima volta lo proverò poi abbiamo preso del miele millefiori liquido questo colore qua poi abbiamo preso un barattolo valgrì di mais lenticchie a noi piace molto la frutta come marca poi abbiamo preso un pezzo di mortadella poi abbiamo preso le filadelfie piccoline queste qua che pietro le uso tanto per pietro per la pastina una confezione di uova poi formaggio pecorino e formaggio grattugiato diciamo tipo grana uno iocca questi piacciono a mamma poi ho preso come pasta delle sempre noi usiamo la de secco perché ci piace tantissimo questi sono i mezzi di tali lisci poi abbiamo preso di toni tagliati poi abbiamo preso pennoni lisci pennette altri mezzi di tali abbiamo preso un po di pasta per la settimana e poi i mezzanelli questi qua pure li spezziamo sempre col pomodoro pure sono buona ecco qua poi gli spaghetti le fragole comunque altra pasta poi abbiamo preso una confezione di arance zucchine le fragole le ho fatte già vedere poi i peperoni le melenzane poi mele una parte di zucca poi abbiamo preso i kellogg's bio cereali integrali cioco al cioccolato vediamo un po questi li ho fatti già vedere pietro grazie poi abbiamo preso una confezione di cozze surgelate già sgusciate poi ho preso il caffè intenso però miscela decaffeinata perché siccome papà prende il caffè e ha problemi ha avuto un po di problemi con la pressione ho deciso di prendere la miscela decaffeinata poi abbiamo preso della granarolo bontà leggera latte a lunga conservazione c'era l'offerta 69 centesimi a busta comunque la granarolo è un'ottima qualità abbiamo preso una cassetta intera perché qua finisce subito il latte allora ragazzi vi ho mostrato la mia mega spesa di oggi e ci vediamo nel prossimo svuota la spesa con Alfie Pietro già ruba di cereali Pietro no poi ragazzi abbiamo preso il pane sempre al sisa volevo farvi vedere abbiamo preso un attimo Pietro pane con lievito madre pane integrale e pane di segale volevo farvi vedere ecco qua il pane di segale vedete come è scuro grazie sto facendo vedere il pane di segale cara ecco qua come è scuro con lievito madre allora Pietro ha fatto la sua prima letterina della mamma però che l'ha scritta lui eh ragazzi auguri mamma ecco qua festa della mamma ovviamente in prima ragazze quindi sta imparando eh cara mamma grazie per tutto quello che hai sempre fatto per me ogni giorno ti voglio un mondo di bene auguri per la tua festa il tuo Pietro non vi dico l'emozione che mi è venuta per la sua prima letterina che ha scritto lui e questa è la poesia ha sbagliato qua perché ha scritto maestra divisa eh Pietro la maestra dice e questa è la poesia della mamma che adesso reciterà facciate ascoltare la poesia della mamma la maestra dice vai bambini bambini voglio insegnare che ancora ci sono le fate non hanno bocchette incantate ma sono più belle e più care sapete? sapete qual è la fatica? ha il nome? ha il nome più bello del mondo ha il sorriso giocondo ha il nome più bello del mondo il semplice Dio e la mamma ah dice auguri a mamma e a tutte le mamme auguri mamma e a tutte le mamme sì quelle che ci sono e quelle che non ci sono più a tutte le tutte le mamme del mondo ho messo il grembiulino perché oggi andrò a preparare i peperoni imbottiti farò con carne macinata pane raffermo che poi andrò a bagnare scusate la voce ogni tanto va il pane raffermo l'ho bagnato eccolo qua adesso lo mettiamo ad asciugare stesso nella bacinella dove ho bagnato il pane precedentemente così si è gocciola qualcosa ecco qua ma deve asciugarsi il napoletano li chiamiamo i peperol imbottunate imbottunate quindi ripeto ragazzi mio marito ha coltivato il basilico l'abbiamo messo in questo barattolo conservate il basilico perché io di solito mi è capitato anche di metterlo nelle bustine per congelarlo però adesso ho portato per il barattolo di vetro così e lo metto in frigo non lo so non sono esperta nella conservazione del basilico di altre verdure oppure magari di altre cose tipo l'aglio il peperoncino a volte anche nell'olio che li abbiamo messi sott'olio che si sono mantenuti nel tempo oppure congelati i peperoncini l'aglio no l'aglio solo magari sott'olio così però il basilico se voi avete qualche altro tipo di conservazione che si mantiene me lo fate sapere nei commentini allora preparo questi peperoni imbottiti per questa domenica ho comprato sei peperoni di media grandezza più o meno e li vado prima a togliere la calotta e poi li pulisco all'interno ho bagnato il pane più o meno 400 grammi di pane 400 grammi di carne macinata poi ho messo dei capperi e delle olive però ad occhio più o meno in base anche al proprio piacere poi ho messo un po' di aglio macinato 4 cucchiai di grana e 3 uova e poi ho messo anche un pizzico di pepe dopo aver messo tutti questi ingredienti si va ad amalgamare il tutto e poi anche un pizzico di sale dopo che si è fatto tutto l'impasto io vado a riempire i peperoni fino a dove arriva diciamo l'apertura dopo di che prendo un po' di pane grattugiato e vado a immergere la parte superiore del peperone dentro il pane grattugiato così quando si cuocerà farà quella crosticina saporita poi vado a mettere un filo d'olio per ogni parte superiore del peperone e poi lo metto anche diciamo sui peperoni dopo aver preparato i peperoni poi li vado ad infornare in forno ventilato a 180 gradi per 45 minuti o fino a che dove vedete che si sono ben cotti e rosolati ed ecco qua i peperoni ripieni imbottiti sono pronti ed ora non mi resta che gustarmelo ed ora dopo aver pranzato vado a pulire il piano cottura ho già preparato la lavastoviglie e tutto però volevo provare questo sgrassatore dell'acee igienizzante perchè è la prima volta che lo uso e volevo testarlo per consigliarvelo e devo dire che è davvero buono anche se il mio preferito resta sempre ace verde però questo qua anche è buono perchè lo si può usare davvero dappertutto perchè è anche igienizzante dopo aver sgrassato con ace vado con il pannetto Actifibre della Vileida il Quasarinox mi vado a pulire la cappa in acciaio così si lucida e si pulisce e col pannetto lo asciughiamo anche e poi vado a pulirmi il piano cottura dopo aver pulito la cappa poi dopo aver sgrassato la cucina con ace sgrassatore igienizzante vado con il Quasarinox per lucidarla e proteggerla e vediamo e vediamo Oggi mi vado a pulire la tavola con questo detergente Florean che è un prodotto dell'MD che io lo uso in tanti modi, sia per il bucato, lo posso usare anche nel secchio per lavare il pavimento, ma in questo caso lo sto usando per pulire la tavola perché pulisce e rimane un profumo davvero strepitoso, buonissimo, davvero ottimo ragazze provatelo, però diciamo che sui mobili no, è solo magari per un top, per un tavolo va bene. Adesso passo alla pulizia del lavello e in questo caso lo faccio con il Viacal perché c'erano delle macchie d'acqua che non si toglievano, però il Viacal è straordinario e quindi mi è andato a togliere anche queste macchie d'acqua e andiamo a pulire con il mio pannetto Actifibre della Vileda. Dopo aver pulito questa domenica la mia cucina vado ad accendermi la mia candela della Yankee Candle così rimarrà un profumo buonissimo per tutta la casa. Ah, ed eccoci qua, eccoci giunti alla mia skin care ragazze, io mi sono già struccata per fare prima ragazze e poi andiamo a mettere il sere la crema, ho ritrovato anche la mia fascettina, meno male, iniziamo un po' la camera qua. Comunque ragazze sto spopolando anche su TikTok un pochino, ieri ho fatto un TikTok e è andato bene, in pratica c'era un giapponese che stava tagliando con laccetti i capelli a una signora, ho fatto un duet, ragazze è l'unico post che ho ricevuto, tante visualizzazioni, se volete andare a vedere su TikTok e mi scemenze, perché sono scemenze alla fine, andate, allora adesso mettiamo il sere, che poi ragazzi ho fatto un po' un altro TikTok dove c'era quell'attore turco, come si chiama, non mi ricordo, andate a vedere ragazze è troppo forte, andiamo, meglio, ragazzi oggi è la festa della mamma, ancora auguri, gli ho messo anche la poesia della mamma, era troppo bello quella poesia, ho detto no io la devo condividere con la mia community è troppo bella e oggi non ho fatto cadere le gocce tutte mamma si chiama e figlia se soltanto voce mamma io non sento e conto tutte le lacrime che agnota a quando bene mamma già perduta sto chi miei stracchi gli anni no mi savi solo una voce c'era a voce mamma mia ragazze questa canzone l'ho dedicata a tutte le mamme che sono in cielo che non ci sono più perché questa canzone è proprio c'è il significato è proprio di una persona che ha perso la sua mamma e purtroppo piange perché non può sentire più la sua voce quindi e vorrebbe ancora l'affetto della propria mamma e sentire la voce della sua mamma allora ragazze grazie di aver guardato il mio video grazie che mi seguite iscrivetevi a casa di alfi se vi fa piacere attivate la campanellina allora passiamo ai salutini in questo video voglio salutare l'amica valentina erriu maria ammirelli stefania fai rosaria carusone felicia rito marcone paola di pasquali angela crisetti e famiglia perché so che anche il marito e la figlia mi seguivano con tanto affetto e infine l'amica carla pirola o pirola non so carla e poi un bacio a tutta la nostra community questi erano i salutini a sorpresa e spero che siete rimaste contente proverbio napoletano ogni cop è un tribunale questo proverbio significa ogni testa è un tribunale è un modo di dire che siamo sempre tutti pronti a emettere sentenze e giudicare gli altri ragazze grazie ci vediamo nel prossimo video a casa di alfi ciao ciao